È stato identificato l'autore della rapina consumata il 17 febbraio scorso presso una sala giochi di San Michele di Bari, quando due uomini, con il volto in parte nascosto e armati di una mazza da baseball, hanno fatto eruzione nel locale, colpendo violentemente il gestore e riuscendo ad impossessarsi dell'incasso, pari a 14.000 euro e a fuggire. La visione del filmato, recuperato dalle telecamere a circuito chiuso della sala giochi, ha consentito di estrapolare alcuni fermoimmagini dei malfattori e a dare un volto ad uno dei due rapinatori. Le successive ricerche del rapinatore scoperto hanno consentito di risalire ad un 26enne incensurato di cella a mare. I carabinieri della locale compagnia, acquisiti di scontri del caso, hanno quindi eseguito una perquisizione presso l'abitazione del giovane, rinvenendo, nascosti nell'armadio, gli stessi abiti indossati la sera della rapina. Il giovane, inoltre, messo alle strette circa le sue responsabilità, pur non rilevando al momento l'identità del suo complice, ha ammesso spontaneamente tutte le accuse che lo riguardavano. Il GIP del Tribunale di Bari, avvalorando l'attività svolta dai carabinieri, ha emesso la misura cautelare all'obbligo di dimora nei confronti dell'accusato. Il complice ha le ore contate.